La Dipinto Color & Design organizza corsi di riciclo creativo shabby chic, vintage, gesso ceramico, craclet, decoupage, dry brush e industrial. Il tutto sotto la guida attenta di professionisti del settore. Alla Dipinto Color & Design potrai imparare a trasformare gli oggetti in originali componenti d'arredo o rivisitarne lo stile. Dipinto Color & Design è a Biceglie in strada del carro 61, uscita Biceglie centro statale 16. Per info e descrizioni showroom chiocciola a dipintoedilizia.it oppure chiama il 328 70 58 723. Dipinto Color & Design, la fantasia al potere. Grazie. Grazie.